I fan impazziscono per una notizia inaspettata. Rimarrete a bocca aperta per quanto annunciato. Ma prima di dirtelo voglio che tu lasci un like per ricevere le principali novità del rosso-nero. Le prestazioni di Seru Guirassi con lo Stoccarda in questa stagione stanno suscitando l'interesse di diversi top club, europei e il Milan è tra quelli collegati. È stato recentemente riportato da Sport Mediaset che il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante prima della finestra di gennaio e Guirassi ha attirato la loro attenzione, il che è comprensibile dato che ha segnato 14 gol in 8 partite di Bundesliga in questa stagione. Se non hai ancora lasciato il tuo like, lascialo adesso per continuare a ricevere in prima persona le novità del rosso-nero. Come riporta calciomercato.com, Guirassi è legato al Milan anche per via di una clausola rescissoria che lo rende ancora più appetibile per gennaio. Fissata, secondo più fonti, intorno ai 17,5 milioni di euro. Stando alle informazioni, però, la dirigenza e lo scouting rossoneri conoscono bene il nazionale guineano di origini francesi, ma non lo hanno inserito nella lista dei possibili acquisti, almeno per ora. Sembra essere una formalità per il Milan investire in un nuovo attaccante la prossima estate, dato che Luca Jovic deve ancora contribuire Olivier Giraud è in scadenza di contratto all'età di 37 anni, ma per ora sembra che altri obiettivi potrebbero prenderne di più della loro attenzione. Bene, ora tocca a te. Cosa ne pensi? Dimmelo nei commenti. Lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale per continuare a ricevere i prossimi aggiornamenti dal Milan.